Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo all'appuntamento del venerdì, però in una formula un po' nuova, perché la settimana scorsa ci sono state le gare, ma io e Elia non siamo potuti andare perché avevamo un impegno, ma i video non si fermano e ho deciso di, come avete visto nel titolo del video, qua di YouTube, di parlare di mentalità vincente. Ma, non lo farò io, ho chiesto a una psicologa, che adesso vi svelerò tra poco, che ha scritto un libro che io ho letto, però adesso ne parliamo assieme, in un attimo che la introduco, diamo il benvenuto a Federica Ugolini. Ciao Federica! Ciao, ciao Max! Ciao, come stai? Tutto bene, grazie mille, grazie di avermi invitata. Grazie a te per aver, l'ho contattata via Instagram, ho detto proviamo, è stata super gentile, è super disponibile, ecco. Tornando al libro, allora, Federica io l'ho contattata perché ha scritto questo bellissimo libro, che si chiama, dal mio punto di vista, Mentalità vincente per ragazzi. Erano, diciamo, vari mesi, insomma, diciamo, da quando Elia fa BMX, così, lo sport, che stavo cercando un libro per ragazzi, perché si trovano tanti libri, no, per magari adulti, per il mindset, la mentalità vincente, però per ragazzi non avevo mai trovato niente. Faccio una premessa, Elia questo libro non l'ha ancora letto perché tu nell'introduzione lo consigli dai 12 anni, Elia ne ha 10, però intanto l'ho letto io. E perché ci sono, ecco, dei consigli sicuramente anche per i genitori. Bene, prima di parlare del tuo libro, però, ti chiedo, Federica, presentati un attimo, dici chi sei, da dove vieni e, insomma, gli studi che hai fatto, ecco. E come sei arrivata a questo libro, magari, anche. Sì, allora, io mi chiamo Federica Ugolini, sono psicologa del lavoro e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale. Mi occupo sia di tutto l'ambito riguardante la psicologia del lavoro, quindi selezione, formazione, orientamento, consulenze aziendali, sia tutto quello che riguarda il benessere e l'evoluzione della persona, quindi dalla psicoterapia fino al coaching, relativo al raggiungimento di obiettivi di vita e anche, insomma, non solo professionali, ma anche obiettivi di vita e nello sport. Questo libro viene proprio dal mio desiderio di dare un contributo ai ragazzi che ho in casa, ne ho due in casa, e ho diversi pazienti adolescenti ultimamente, soprattutto dal post-covid in poi, e mi sono resa conto che tutta quella bella letteratura che, appunto, come dicevi, è presente per gli adulti sulla mentalità, sul mindset, su tutto quello che ci può aiutare a focalizzarci per raggiungere i nostri obiettivi, per rimanere sereni, per affrontare le sfide della vita in modo positivo, eccetera, non era però presente per una fascia di età, diciamo, giovanile, per ragazzi. Perché in tutti i libri che troviamo su questi argomenti troviamo magari esempi come far durare il matrimonio, come gestire i propri investimenti, il denaro, cioè tutte cose che non riguardano da vicino i ragazzi, e che quindi anche se troviamo un ragazzo di particolare buona volontà che vuole approcciarsi alla lettura, comunque viene demotivato dalla distanza che trova tra le parole del libro e la sua vita. Quindi quello che io ho voluto fare è condensare, diciamo, tutti gli aspetti più importanti di quella che si chiama mentalità vincente, mindset, come lo vogliamo chiamare, e li ho, diciamo, resi utilizzabili da un pubblico che io ho individuato dai 12 in su, indicativamente. Specifico subito che questo non significa che un bambino di 7, 8, 10 anni non lo possa leggere, dico solo che magari farebbe più fatica, ecco, rispetto a un ragazzo un po' più grande. Ti faccio un esempio che così ti chiedo, per esempio, quando è che ho capito che il tuo ragionamento sui 12 anni, credo, cioè nel primo capitolo, tra l'altro questo libro è molto bello, anche perché chi magari è abituato a leggere poco, tu consigli nell'introduzione, perché poi c'è scritto qua proprio davanti, 21 chiavi per costruire una vita meravigliosa, è diviso in 21 capitoli e in pratica tu consigli di leggerne uno al giorno, per poi poi elaborare i pensieri, quindi parliamo di 3-4 facciate al giorno, forse anche meno in qualche capitolo, quindi è molto bello anche per quello. Tornando al discorso, cioè nel primo capitolo tu dici, no, darsi valore, ecco perché non c'è nessuno più importante di te, cioè soprattutto in questo capitolo qua iniziale ci sono dei concetti che, correggimi se sbaglio, magari in Elia non li vedo ancora, magari nella femmina forse, perché ho anche Agnese, un po' di più, però un concetto, quando fai alcuni esempi dove dici sono amabile oppure no, sono brutto oppure no, mi sembrano per Elia ecco magari dei concetti che ancora non ha in mente, allora magari metterglieli in testa adesso non ha poco senso. Sì, potrebbe essere prematuro, sì, sì. Ecco, ok, ecco perché, ecco. È comunque auspicabile che un genitore magari legga il libro, o un coach, un allenatore, un insegnante, perché, come hai fatto tu, possa poi magari rendere più digeribili, passare in qualche modo questi concetti al momento del bisogno, in particolare in un ragazzino che fa sport, quindi in momenti anche un po' difficili potrebbero esserci, e spesso il genitore non sa dove mettere le mani, quindi magari a buon senso cerca di fare degli interventi che magari possono risultare anche peggiorativi dello stato d'animo del ragazzo in quel momento. Quindi per i ragazzini più piccoli, per i bambini anche, io consiglio ai genitori di leggersi il libro e di rendere magari in spot, in pillole, con esempi, fruibile per il bambino quello che gli serve al momento. Certo. Libro che, mi sono dimenticato, ho preparato un bannerino se lo volete, eccolo qua. Praticamente questo è un link che vi porta ad Amazon e Amazon mi riconosce una piccola percentuale sul venduto, diciamo, su questo, ecco. Oppure comunque vi metto il link in descrizione, ecco. E così lo potete prendere, ecco, il banner lo lascio lì. E bene, io andrei un po' a chiederti, chiaro che... Nel vivo. Adesso ci spieghi tutto il libro, perché sono un po' di pagine da leggere. Però magari qualche, qualcosina qua e là, magari dalle domande cerchiamo di tirarlo fuori. Allora, la premessa, la premessa mia, parlo per Massimiliano Berto, è che Elia appunto ha dieci anni e in questo momento la mia priorità è che si diverta naturalmente. Sì, dico naturalmente, ma ne prendo anche consapevolezza da varie interviste che ho fatto nel canale ormai di campioni, che si può vedere, c'è Nick Iman, c'è Niccolò Bonini, c'è Gargaglia, che diciamo che quando ha la domanda che consiglio daresti a un giovane rider, praticamente tutti dicono in questa fase che si diverta e che migliori la tecnica, ok? Detto ciò però, perché sono andato alla ricerca di sto libro e poi appunto a contattare Federica? Perché volevo capire se da genitore, da papà, è possibile però fin da ora cercare di, come dire, sì, trasmettergli o comunque dargli questa famosa mentalità vincente. Però partiamo direi da qua. Cosa significa mentalità vincente, ecco, un mindset, come l'hai detto in pratica prima? Allora, sicuramente chi si interessa di crescita personale, consapevolezza, eccetera, avrà sentito tante volte la frase il 5% è la tecnica e il 95% è la mentalità o il mindset. E questo si applica allo sport, come per esempio al mondo degli investimenti, al mondo del lavoro, insomma, a tantissimi altri ambiti. Che cosa vuol dire la mentalità? Quindi come mai è così poco importante la tecnica, è così importante la mentalità? Perché, come dire, tutto parte da noi e torna a noi, come se fosse una spirale, no? Lo racconto con un esempio molto banale. Se io penso di essere una persona, per esempio, che vale poco, sono una ragazzina che non si sente a suo agio con se stessa, pensa di non essere desiderata come amica, come partner per i primi ragazzini, quindi che cosa farà? Magari partendo da queste convinzioni inconsce, perché magari ha fatto delle esperienze di quel tipo, da piccola, non lo sappiamo, ha collezionato esperienze che andavano in questa direzione, si convince di valere poco. Magari che cosa farà? Con le amiche cercherà di farsi benvolere accontentandole in tutto, cercando di essere super gentile, magari facendo dei regali, delle cortesie, delle cose, e diventerà un po' lo zervino del gruppo. Facendo questo, che cosa si porterà a casa? L'idea ancora più forte di essere una persona che vale poco. Quindi in questo senso tutto parte da noi e tutto torna indietro a noi. Quindi non è che questa ragazzina avesse magari delle caratteristiche oggettive particolari che la rendevano svantaggiata rispetto ad altri, se non l'idea di se stessa come persona che non vale tanto. Quindi la mentalità è questo, è saper utilizzare la mente in modo che ci aiuti e non che ci boicotti, perché noi fondamentalmente mettiamo un nostro filtro alle cose che accadono. La vita che ci accade non è una cosa che noi oggettivamente riusciamo a percepire per com'è. Noi gli applichiamo un filtro. Ci sono persone che magari oggettivamente ci sembrano le più fortunate del mondo perché hanno degli elementi che secondo noi sono quelli indispensabili per una vita felice, ma non sono felici. E viceversa invece persone che per noi sono disgraziate, perché hanno problemi di qualsiasi tipo, vivono bene. Questa è la mentalità. È il filtro che la nostra mente applica alla realtà che abbiamo davanti. Ok. E che rende tutto bello, brutto, funzionante, difficile, facile, a seconda proprio di com'è lo concettualizziamo. Certo. E quindi ti chiedo, noi genitori possiamo, cioè è giusto che noi genitori cerchiamo di aiutare i figli ad avere un certo tipo di mentalità già fin da ora o è prematuro o non va? E come possiamo aiutarli, ecco? Assolutamente sì, è giusto, perché comunque il genitore dà un'impronta, cioè è impossibile essere neutri totalmente e non avrebbe neanche nessun senso, no? Perché comunque un'impronta la darebbe anche il genitore che cerca di essere neutro. Quindi tanto vale essere il più possibile consapevoli di che cosa stiamo trasmettendo ai ragazzi e aiutarli a vedere le cose nel modo per loro più utile possibile. Mi piace proprio usare il concetto di utilità, non è bene, male, cioè che cosa gli serve di più, che cosa gli fa crescere di più, cosa li rende più consapevoli, più forti, più sereni. Questi concetti, passati da un genitore che a sua volta magari è consapevole, si è informato, ha fatto delle letture, degli studi, ovviamente aiutano il ragazzo a interpretare, per come dire, la realtà in modo utile. Perché non dimentichiamoci che il bambino, soprattutto molto piccolo, immaginiamoci un bambino molto piccolo che, per esempio, di un anno o due cade, batte un ginocchio, prima di piangere che cosa fa? Guarda la mamma o il papà, se la mamma o il papà sono terrorizzati, oddio, il bambino piange. Se sono sereni e gli dicono con un bel sorriso, ma non è niente, non preoccuparti, adesso ci alziamo, il bambino magari non piange. E questa funzione del genitore che fa un po' da filtro alla realtà rimane più a lungo di quanto pensiamo. Quindi quando il genitore ci aiuta a elaborare anche una sconfitta sportiva, un problema a scuola, un problema con gli amichetti, in maniera utile, e poi vedremo che cosa vuol dire, sta aiutando il ragazzino a vedere già le cose in maniera che gli servirà di più, per stare sereno, per raggiungere i propri obiettivi. Certo. Allora, a questo punto hai introdotto un po' il discorso delle sconfitte, delle vittorie ai genitori, e purtroppo, nel senso, penso che tutti noi, soprattutto adesso io, vabbè, io ho sempre giocato a calcio, ecco, e BMX me l'ha fatto conoscere lì, però BMX, dico purtroppo, perché mi viene da dire purtroppo, però forse è uno sport, c'è la squadra, ok, però è uno sport estremamente competitivo, quando loro escono da quel cancello e fanno il giro, diciamo, sono loro con la loro bici, ecco. Quindi un po' mi fa paura, perché è una cosa che, diciamo, non conosco, cioè il calcio è più di squadra, diciamo, però lì quando, cioè almeno mi sono accorto io, quando perdevo a calcio si perdeva, diciamo, di squadra, a meno che proprio non sbagliavi quel gol o quella roba lì. In realtà qui, essendo tu e tu, mi sembra, cioè non mi sembra, adesso Elia magari sta elaborando un po', però le sconfitte vengono sempre viste come delle tragedie, ecco. E su questo io volevo dirti che uno dei capitoli che mi è piaciuto di più, infatti, è il sesto, che l'hai chiamato Vincere, e sotto c'è scritto, ecco perché imparare a perdere è il miglior modo per iniziare a vincere. Cioè è stato molto bello e anche illuminante, insomma, da parte mia, perché dopo con questo capitolo qualcosina, insomma, gli ho detto, gli dicevo ad Elia, ecco. E niente, ecco, non so, rispetto a questo, cosa puoi dire sul, cioè cosa possiamo dire a noi genitori quando nostro figlio subisce magari una sconfitta, o magari come sta succedendo ad Elia, che purtroppo al photo finish è già la seconda volta che ha questa cosa che vuole andare sul podio, no, e per mezzo, per centesimi non ci arriva. È successa una volta, è successa due, e quindi comincia ad essere un po' giù, ecco, diciamo, ecco, magari non lo dà a vedere, però immagino che dentro, insomma, ovviamente non sta bene, cioè gli dispiace, ecco. È comprensibile. Allora, una cosa importante è, allora, spesso il genitore che cosa tende a fare? Nel tentativo di consolare il ragazzino che ha perso, sia uno sport di squadra o individuale, cambia poco, il genitore spesso tende ad assecondare la rabbia del bambino o del ragazzino, dandogli ragione sui suoi lamenti, per tipo, non so, ah, però vedi che arbitraggio questa volta, è il genitore che dice, sì, hai ragione, ma infatti, guarda, un arbitro vergognoso, eccetera, oppure, sì, ma hai visto che quel giocatore lì era scorretto, ma sì, infatti, è vero, eccetera. In questo modo, il genitore rafforza una sorta di vittimismo da parte del ragazzino, e questo concetto estremamente inutile della fortuna barra sfortuna, cioè il ragazzino che viene assecondato nel lamentarsi, nell'arrabbiarsi di una sorte avversa, diciamo così, di qualcosa che lui non può modificare, apparentemente il genitore sembra sollevarlo, no? Dice, sì, ma hai ragione, ma hai fatti, come si fa? Ma in verità, che cosa fa? Fa un intervento depotenziante sul ragazzino, cioè gli sta confermando che in verità è tanto che ci puoi fare, l'arbitro è così, l'altro giocatore è stato scorretto, sei stato sfortunato, quindi come dire, vabbè, mettiti nell'angolino, piangi, scalcia, tanto non c'è niente che puoi fare. Questo, purtroppo, è quello che il genitore rafforza nel bambino o nel ragazzino. Quando invece il genitore stimola il ragazzino a dire, ma voi che cosa potevate fare di diverso rispetto a quello che avete fatto, va bene l'arbitro, va bene quel giocatore, va bene il terreno che oggi era così, pioveva e tu non sai giocare bene quando piove, tutto quello che vuoi, ma siccome può succedere che l'arbitro sia così, siccome può succedere che l'altro giocatore sia così, siccome può succedere che piove, che cosa puoi fare tu di diverso rispetto a quello che hai fatto? Quindi questo è veramente qualcosa di interessante. Che cosa ti insegna? Quando questa sconfitta, che tra l'altro a me non piace chiamare così, questa esperienza, che cosa ti insegna? C'è una frase bellissima di Michael Jordan che ho appeso nella camera dei ragazzi, che dice, ho perso tante X partite, X volte i miei compagni mi hanno affidato l'ultimo tiro decisivo e l'ho sbagliato, ed è proprio per questo che alla fine ho vinto tutto. Perché quando si dice sbagliando si impara, questa è veramente una frase sacra. Cioè l'errore, la sconfitta non deve essere chiamata né errore né sconfitta, ma deve essere un'esperienza. Noi siamo reduci, per esempio, ieri sera, il piccolo ha giocato in un torneo molto importante per loro dove sono arrivati in finale e hanno perso la finale di calcio. Dove lui è portiere, tra l'altro è stata giocata ai rigori. E cosa vuoi dire, no? Ai rigori sono una scommessa, siete bravi che siete comunque arrivati in finale, tra tutte queste cose qua. Lui molto intelligentemente, a fine serata, tornando a casa, ha detto però una cosa importante l'abbiamo imparata, che la partita va chiusa prima. Questa è una grande lezione che puoi imparare. Poi ci può essere l'arbitraggio che non ti è piaciuto, tutto quello che vuoi, però che cosa hai capito? Come mai non ha funzionato? Diceva Edison quando gli hanno detto come mai ci ha voluto così tanto per mettere a punto la lampadina, ma come ti sei sentito a sbagliare 999 volte prima di costruire la giusta lampadina? Lui dice io non ho sbagliato 999 volte, ho scoperto i 999 modi in cui la lampadina non va fatta. Quindi quando un ragazzo non porta a casa la vittoria, porta a casa comunque una grande lezione, cioè come non si vince? Che cosa hai fatto? Che potevi fare diversamente? Nell'allenamento, nella partita? E guarda te stesso, perché quello che poi è importante, dicevi prima rispetto alla squadra, ha perso la squadra, ha vinto la squadra, hai perso tu, la competizione, che è un concetto che a me onestamente piace poco e piace poco anche che sia stimolata a scuola, eccetera, perché la vera competizione, tra virgolette, è superare se stessi, cioè se lo sport ti dà qualcosa di grande, quel qualcosa è proprio il desiderio di superare te stesso, perché è quella la, come dire, la vera vittoria, no? Quando tu, al di là di quello che fanno gli altri, hai superato a te stesso i tuoi limiti. Questo è secondo me quello che lo sport regala ai ragazzi e anche a quelli un po' più grandi. Certo. Sì, è un po', hai parlato proprio di l'altro capitolo che a me piace molto, che è quello di avere, cioè un po' il centrale, che è quello di avere il famoso mindset, la giusta mentalità. Parli del mindset perdente e vincente, con addirittura degli esempi, ecco. E lì è stato molto bello, insomma, un po' l'hai sicuramente detto quando appunto dicevi la sfiga da una parte, oppure cosa potevo fare di più per... Ecco, sicuramente quello... Nel frattempo è venuto a trovarci Elia, che dice, ecco, guarda, lei è Federica. Ciao! Ciao, piacere! Ciao! Ecco, stiamo parlando del libro qua. Sì. Va bene, che tra un po' te lo faccio leggere anche a te, va bene? Adesso, Elia, questo video esce venerdì, la domenica, la gara più importante dell'anno, no? Tu hai parlato della partita di tuo figlio, è la gara dove si decreta, diciamo... Vincitore. Vincitore, ecco. Cioè, l'italiano, insomma, il campione italiano, ecco, insomma. Quindi, diciamo, è la settimana pre-evento, ecco. Sì. Va bene? Sì. Dai, vai a prepararti che vai all'allenamento. Hai fatto merenda? Sì. Bene. Chiudi. A dopo. A tal proposito che appunto ti dicevo che c'è questa gara molto importante, cioè questa proprio è la gara più importante, cioè proprio... cioè se vincono, vabbè, sono piccoli, non possono, diciamo, prendere il, come dire, la targhetta del campione italiano, però sarebbe campione italiano, insomma, di categoria. Ti chiedo, adesso lui è tranquillo, però magari so che il giorno prima o il giorno stesso magari sarà un po' agitato, avrà un po' di tensione pre-gara, ecco. Come possiamo aiutarli, secondo te, a stare tranquilli? Ecco, non dobbiamo dirgli non sta a pensarci troppo, oppure stai sereno, vada come vada, cioè non si sa mai se motivarli in qualche modo, svegliandoli fuori, almeno da dove si sta, o lasciarli tranquilli, ecco. Come ci si può comportare, ecco, secondo te? Allora, la miglior performance si raggiunge, no, secondo la curva della Urovesciata, tra un giusto punto di equilibrio tra l'attivazione, quindi l'emozione e l'ansia. Quindi, proprio, diciamo, fregarsene non è che sia proprio l'ideale, perché se un ragazzino va a fare l'esame, magari di terza media, che è lì che non gliene frega niente, non si ricorda neanche di portare via la penna, cioè, non siamo, no, nel giusto, oppure non vede l'ora di finire, quindi fa tutto in dieci minuti, perché non vede l'ora di uscire, quindi non c'è proprio un'attivazione minima, quello, ovviamente, comprensibilmente, non è il punto di miglior performance, no? Tu la performance la tiri fuori quando c'è un po' di attivazione, no? Almeno prima di entrare all'esame, che sei lì, che dici, mamma mia, adesso voglio fare bene, cioè, c'è qualcosa che ti chiama, come dire, in adunata tutte le tue risorse, e quello è buono, poi c'è il panico, cioè l'attivazione sale, 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 dove ci può essere dall'altra parte il panico, che invece ti manda in papa il cervello e le gambe, e tu non riesci più a ragionare. Quindi che cosa ti può aiutare? Sicuramente non ricordare, ehi, allora, dai, 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 che c'è la finale, cioè, questo non serve, perché già ci pensano da soli, io tornerei proprio alle origini, cioè, come mai hai scelto questo sport? Per divertirti, ti piace? Allora, fallo, divertiti, divertiti. Quando tu dai il tuo talento, cioè, lasci che il tuo talento emerga, senza pensarci troppo, perché non hai bisogno di pensare, perché ti sei allenato mille volte, hai fatto tutto quello che dovevi fare, adesso basta, scendi in campo e divertiti. A me ha colpito tanto il discorso che aveva fatto Mancini, che poi, insomma, è il coach della Nazionale, ai ragazzi, prima della finale, e avevano fatto vedere in un programma televisivo questo discorso, insomma, proprio prima di uscire nel campo, e lui, nonostante gli interessi economici che ci possono essere dietro, insomma, non parliamo di ragazzini che si divertono, ma, insomma, di professionisti con aspettative, sponsor, gli ha detto, ragazzi, divertitevi. E questo mi ha colpito tantissimo, perché penso che sia ancora uno degli strumenti migliori per arrivare a grandi risultati, cioè entra dentro le cose, non pensarle, non pensare, se tu sei un portiere o sei un rigorista, e ti metti a pensare a che cosa può succedere se sbagli, a che cosa può succedere se fai bene, cioè stai veramente, ti stai distraendo, hai bisogno di essere nel qui e ora. Io l'ho provata questa sensazione con la danza. Quando pensavo a che cosa è il mio hobby, che comunque è la danza orientale, quando eravamo a teatro, anche di fronte a tante persone, e io pensavo a che cosa fare, le gambe non mi venivano dietro. Quando io ascoltavo la musica, e veramente entravo in mindfulness, cioè in quello stato di flow, proprio di, esiste solo la musica, esistono solo i miei piedi, le mie gambe, esiste il mio corpo che si fa trascinare dalla musica, non penso che c'è l'insegnante che mi guarda, ci sono tante persone che sono venute a vedermi, se sbaglio, ma che figura, ma dai, ma sono venuti anche a vedere, ma dai, ma come si fa? No. musica, gambe, e vado. Quindi, esercizi di respirazione, respirazione consapevole, tutto quello che ci può aiutare, a non pensare all'evento gara, ma a viverlo. Io ho visto in tanti ragazzi, come la chiave del successo, dell'andare avanti, anche nello sport, sia proprio divertirsi, a fare quello che si fa, non pensare a voler arrivare, a vincere, perché queste aspettative, poi alimentano anche l'ansia, cioè sì, sarebbe bello arrivare in Serie A, in qua, in là, però poi se non ci arrivo, ma allora che cosa ho faticato a fare, ma allora, cioè è interessante invece trovare il senso di quell'allenamento, di quella competizione, di quella gara, dentro la gara stessa, cioè io sono lì, sulla mia bici, mi diverto, questo è il mio sport, me la godo, e più me la godo, e più funziona, è incredibile, ma è così, l'abbiamo provato tutti, più siamo sereni, più siamo lì a non farci tanti problemi, più le cose vanno lisce, incontriamo meno inciampi, quindi quello che si potrebbe fare, è magari insegnare qualche banalissimo esercizio di respirazione, quindi per esempio, quando hai troppi pensieri in testa, concentrati sul respiro, ascolta l'aria che entra dal naso, che esce dal naso, per il resto resta lì, senti i rumori, le sensazioni che ti rimandano nei cinque sensi, resta lì, nella situazione non esiste altro, nel non pensare a come andrà, cosa sta succedendo, tu vai, vai, che lo sai fare, perché non è che non lo sai fare, ti sei allenato mille volte, l'hai fatto tante volte, quindi tu vai, fai quello che sai fare, lascia che il pilota automatico si inserisca, e goditi questa tua performance, a prescindere da come andrà. Certo, infatti ne parlava anche Giacomo Gargaglia, che è uno dei grandi, un'elite che è in nazionale della BMX, parlava nell'intervista di questi due aspetti, che hai detto, l'aspetto del, c'era un certo punto che voleva mollare, perché ha avuto tanti infortuni, era stanco, però ha proprio detto come hai detto te, sono tornato all'origine, cioè il motivo per cui ho fatto sta cosa, perché faccio BMX, e da lì ho lasciato andare, e poi sempre nell'intervista, infatti diceva, che una delle sue gare più belle, che ricorda di più, è questo famoso flow, che hai un po' accennato, cioè lui è andato senza neanche, cioè si è tutto infilato, tutto giusto, insomma, e neanche si è accorto quasi, ecco, della gara che stava facendo, ed è stata la sua, migliore, ma tanti parlano di questo flow, anche nella serie, che ho visto con Elia, di Michael Jordan, ne parlavano di questa cosa qua, in effetti anche su questa cosa qua, della respirazione, sarebbe da lavorare, sui bambini sicuramente, sì sì sì. Bene, grazie, e un'altra domanda che ti faccio, che è un po' emersa, tra l'altro, che la leggo sia allo sport, che anche alla scuola, per esempio, praticamente, anzi, io faccio questa premessa, avevo letto un libro, su, per adulti, però, mi pare che si chiama Io Sono, è su una ragazza che giocava, o gioca a basket, e parlava del suo mental coach, e in uno dei capitoli, c'era, premiati, cioè, a raggiungimento di un obiettivo, cioè, io ho l'obiettivo, mi pare lei aveva l'obiettivo, di vincere il campionato, se vinco il campionato, si era detta, mi prendo quella macchina fotografica, ha detto che si era andata a vedere tutte le cose della macchina fotografica, per fare, alla fine non ha vinto il campionato, e non se l'hai presa, ok? Ma, questo per dire che, è giusto, anche per i ragazzi, cioè, dargli uno stimolo di questo tipo qua, dire, non lo so, se arrivi su, se raggiungi la finale, senza per forza vincere, se vai sul podio, ti faccio sta cosa, ti do tot, che è un po' quello che, l'eterno discorso, sei promosso, ti faccio il regalo, ti faccio il regalo, questa cosa qua, è una cosa che funziona, o no? Sono perplessa, sono perplessa, rispetto a questi premi, perché? Perché diventano una sorta di ricatto, tra virgolette, ovvio, in senso buono, non c'è intenzione, a parte del genitore, anzi, eccetera, però, il ragazzino magari, ci tiene a qualcosa, a me è capitato di avere una giovane paziente, qualche anno fa, che era stata messa in una situazione simile, con il motorino, al quale lei teneva tantissimo, e le era stato detto che se fosse stata promossa, avrebbe avuto questo famoso motorino, e invece in caso contrario no, e lei è andata ancora più in ansia, cioè già aveva l'ansia per la scuola, già faceva fatica a studiare, aveva insomma tanti complessi di non riuscire, e questa cosa l'aveva ulteriormente messa in difficoltà, perché dicevano, io al motorino ci tengo tantissimo, già che magari non sono tanto brava, penso magari, ah, finisce la scuola, mi prendo il motorino, vado a spasso, no, non ho il motorino, perché non sono riuscita, quindi l'ansia era aumentata, quindi io do per scontato, vi inviterei a dare per scontato, che la vittoria è un premio intrinseco, no, la promozione, così come la vittoria nello sport, è già premiante, no, in parte, ma quasi, insomma in gran parte, anche per il ragazzo, quindi non è necessario aggiungere e condizionare un premio a questa vittoria, quello che si può fare, allora intanto è una cosa diversa, quando un atleta si dice, o una persona si dice, quando raggiungerò questo obiettivo mi premierò con X, lo fai da solo, quando hai il genitore a farlo può essere diverso, non è proprio la stessa cosa, che cosa si può fare, quindi per esempio una cosa interessante che si può fare, sia nello studio che nello sport, è per esempio premiare l'impegno e dare una sorta di gratifica a livelli diciamo crescenti, ma premiando anche lo sforzo, immaginiamoci un ragazzo che ha tre fisso in matematica e si mette di impegno, studia, va ripetizioni e prende quattro, non è un successo, oggettivamente parlando, però è uno step, quindi non lo condizionerei a monte, cioè guarda che se riesci a prendere un votino in più, il babbo e la mamma ti comprano X, no, però magari quando il ragazzo torna a casa, dice che è andata un po' meglio, eccetera, magari se si va in un negozio, e non so gli piace qualcosa, dici guarda prenditela, perché comunque è giusto che ti gratifichiamo, perché comunque al di là di come sia andata, ti sei impegnato, quindi devi capire che stai facendo le cose giuste, quindi il premio sia negli animali che negli umani, che cosa fa? rinforza dei comportamenti, ma dei comportamenti, cioè è difficile premiare, cioè è insensato secondo me premiare un risultato, perché il risultato dipende da tanti fattori, non ultimo anche da, per esempio, come vieni giudicato, se è un patinaggio, tu buffi, eccetera, o da come gli altri, per esempio, rendono in quel momento, quindi non dipende soltanto da te, quindi potrebbe essere frustrante, dire io ho dato tutto, però non vengo premiato, perché c'è chi ha fatto un risultato migliore del mio, invece premiare l'impegno, può essere interessante, io però non lo metterei come premessa, cioè guarda che se ti impegni tanto, poi ti compriamo questo, però magari con spontaneità, cioè comunque mi fa piacere che tu abbia raggiunto questo risultato, quindi dai, ti voglio gratificare così, e un'altra cosa importante è lasciare comunque ai ragazzi la responsabilità dei propri successi e insuccessi, cioè non deve essere vado male a scuola, dispiace alla mamma, vado bene a scuola così faccio contenta la mamma, vinco così papà è contento, perdo, ho fatto arrabbiare papà, ho fatto avvilire papà, deve essere sempre, ti fa piacere? sei contento di aver vinto? Sì, sono contento bene, mi fa piacere per te, non per me, perché altrimenti al bambino viene l'ansia, perché siamo tutti bambini, e rimaniamo purtroppo nel tempo, quei bambini ai quali fa piacere non deludere mamma e papà, però questo può diventare un elemento veramente pesante, cioè se la mamma e il papà sono dentro lo sport, o dentro la scuola, in maniera così forte, tale per cui io percepisco che i miei risultati scolastici e sportivi determinano emozioni particolari nei miei genitori, e io mi sento il burattinaio delle loro emozioni, questo può essere un carico di responsabilità molto forte, invece il genitore ha bisogno di rimandare al ragazzino, sono felice per te che hai vinto, deve essere davvero una bella soddisfazione dopo l'impegno che hai messo, ma non, mamma è felice che hai vinto, stai già dicendo che se la prossima volta non vinci mamma è triste, pensate per un bambino che peso. Certo, sì, grazie. Bene, allora, io vi invito a sicuramente comprare questo libro, a leggerlo perché è veramente bello, ci sono tanti altri concetti, insomma che appunto non siamo riusciti a sviscerare, tra cui ne cito uno che è su quello del collaborare, mi è piaciuto molto, che comunque oltrarre il meglio dalle relazioni, che comunque insomma essendo uno sport molto individuale, ripeto, secondo me è vero, c'è sempre uno che vince e gli altri sono tutti dietro, però insomma, io credo che tutti insieme si possa crescere, ecco sicuramente, e si possa essere amici con rispetto e si possa sicuramente crescere. Io per dire l'ho visto, faccio un piccolo, una piccola cosa su dove Elia si allena, praticamente Elia, le prime gare, i primi anni, diciamo da piccolino, vinceva quasi sempre, perché erano in pochi, poi però sono arrivati altri, tra cui anche un suo compagno di squadra, Pietro, che saluto, che lui era nell'altro gruppo, e adesso, da adesso ormai è due anni, che sono insieme nello stesso gruppo, però questa cosa, secondo me, li ha arricchiti entrambi, ecco, nel senso, non è che, cioè, vedo che Elia, vede un po' Pietro come, quello che deve raggiungere, diciamo, adesso l'ho detta male, però, come hai detto te, l'ispirazione, no? Sì, cioè, lì, devo arrivare lì, oppure, devo avvicinarmi a lui, ecco, sicuramente. Sì, cioè lui ce la fa, posso farcela anch'io, cioè, è quasi una, una, no, è un ideale al quale ispirarsi, anzi, magari superarlo, no? Quindi, se poi non c'è nessuno di stimolante, no? Ne parlo anche nel libro, la questione si appiattisce, cioè, se io dovessi ripetere all'infinito la prima elementare, è vero che, magari, non avrei lo stress di imparare cose nuove, difficili, eccetera, però, sai che noia, cioè, se un calciatore di serie A, dovesse andare a giocare in una piccola provincia, è vero che vincerebbe sempre, come tutti i ragazzini vorrebbero sempre, vincere, ma se veramente vincessi sempre, non giocheresti più, diresti, vabbè ragazzi, basta, ma cosa vado in campo a fare, ma che noia, cioè, il bello dello sport è quello, veramente avere stimoli per superare, soprattutto noi stessi, se no, diventa banale, diventa noioso, tutti vogliono vincere, ma vincere sempre, poi ci si annoia, bene, ho finito le domande, però, volevo dire questo, anche che, appunto, rinnovo di prendere il libro, perché sicuramente, tutti gli argomenti, tutte le cose che ha detto Federica, sicuramente, sviscerate molto di più, e molto meglio, tra l'altro, in ogni capitolo, praticamente, ci sono citazioni, ci sono esempi, storie vere, anche, di personaggi, e anche, qualche esercizio, in fondo, per un po' stimolare, appunto, il ragazzo a pensare alla sua vita, ecco, e a quello che ha in mente, in quel momento lì, ma, volevo, siccome, appunto, il libro a me è piaciuto molto, io so che Federica, guardando su Amazon, ha scritto altri libri, tipo, io ne ho visto uno, che è sulla comunicazione assertiva, e forse ne ha scritto anche un altro, che sicuramente leggerò, non so se vuoi dire due parole, su questi libri, ecco, di cosa parlano. questa collana, di cui fa parte, Mentalità vincente per ragazzi, è la collana, le psicoistruzioni, di Federica Ugolini, che sono dei libri, di taglio molto pratico, in cui, ho voluto, praticamente, mettere a frutto, la mia esperienza, come insegnante, nei corsi di formazione professionale, nei quali, avevo proprio la necessità, di ridurre all'osso, la teoria, e trasmettere tanta pratica, e ho utilizzato, questa modalità, per scrivere questi libri, che vogliono essere, proprio, delle istruzioni per l'uso, per i principali concetti, di psicologia. Quindi, su Amazon, al momento, potete trovare, Mentalità vincente per ragazzi, Come smettere di pensare troppo, e comunicazione assertiva, e li trovate, semplicemente, digitando, Federica Ugolini, su Amazon, oppure, in questo caso, seguendo il link, perfetto, poi ho scritto, un altro libro, a parte che, sta per uscire, una quarta, un quarto libro, della collana, si sia, a breve, della collana, psicoistruzioni, e poi ho scritto, un altro libro, che si chiama, La sedia trovata nella spazzatura, che è edito da Ecos Edizioni, quindi un libro, che ho fatto tramite, pubblicato tramite una casa editrice, che è una sorta di romanzo, di self-help, che serve per riflettere, sul lavoro della propria vita, che strada prendere, quindi molto carino, molto leggero, sotto forma di romanzo, che però, sta cambiando la vita, già a diverse persone, mentre invece, poi c'è il progetto, delle psicoistruzioni, che è un progetto, che gestisco io, direttamente, perché una parte del ricavato, poi lo dono, in beneficenza, quindi diciamo, è un progetto solidale, in cui ho voluto dare, da una parte un contributo, cercando di trasmettere alle persone, i più importanti concetti di psicologia, applicabili proprio al quotidiano, e dall'altra parte, per chi non può leggere, non può migliorarsi la vita da solo, diamo insomma, in beneficenza, una parte del ricavato. Bello, bello. Ok, quindi allora, l'intervista è finita, ti dico questa cosa qua, sicuramente i genitori, mi fermeranno, mi diranno, dovevi chiedere quello, bravo, ma dovevi chiedergli quello, quell'altro, quest'altro, allora io chiedo a Federica, che io mi segno magari le domande, e magari ci rivediamo in un altro video, con le domande del pubblico praticamente, ecco, se ti fa piacere, volentieri, sì, sì, senz'altro, quindi se ci sono altre curiosità, te le puoi segnare, e ne riparliamo insieme. Perfetto, perfetto, va bene, grazie ancora, e niente, ci vediamo, salutiamo tutti, e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, Grazie a tutti